Questa è un'immagine iconografica in qualche maniera di una donna, una donna in abiti contemporanei arabi che stringe tra le braccia il corpo di un bambino. È una madre che tiene in braccio il figlio morto, una pietà contemporanea, così è stato definito il presepe allestito nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio nel comune di Cortona. I cartelloni che abbiamo diffuso lungo il percorso, che sono pedagogici, dicono chiaramente che il presepio non è soltanto un fatto da contemplare ma da realizzare oggi, in questo Natale. E anche noi dobbiamo partire all'alba perché i giorni sono rimasti pochi e cominciare a fare qualcosa di veramente serio e impegnativo perché regni davvero questa pace. Dio non torna più a Bethlehemme ma ha incaricato noi di diffondere da Bethlehemme il suo messaggio in tutte le parti del mondo. Il tema è quello del conflitto israelo-palestinese, un presepe controcorrente a cui il parroco Dono Torino Cosimi non è nuovo. Lo scorso anno il tema era stato il conflitto tra Russia e Ucraina. Da tre anni facciamo questo tipo di presepe un po' controcorrente appunto. Prima abbiamo parlato di immigrazione, di migrati, di migranti e poi abbiamo parlato del conflitto lo scorso anno purtroppo ancora tra Russia e Ucraina e quest'anno il tema purtroppo rimane ancora questo. Ecco ma perché appunto anche come artista e quindi perché far parlare l'arte, perché questa scelta? Perché è scopo dell'arte far parlare e scuotere in qualche maniera la coscienza pubblica. Quindi questa è l'esigenza di un artista e questo è il lavoro dell'artista. L'artista non deve solo produrre delle cose belle altrimenti sarebbe un banale artigiano, l'artista deve fare qualcosa di più.